questa è la nuova versione del tour virtuale del museo civico di chiusi con alcune novità il video mostra l'uso di voci guida in italiano ed in inglese la novità è che sono voci sintetizzate da un'intelligenza artificiale come questa che ritroverete nel tour nel museo civico la città sotterranea è possibile visitare un percorso nel mondo sotterraneo di chiusi attraverso un tratto dei cunicoli di origine etrusca creati per la gestione delle risorse che hanno suggestionato gli studiosi che pensavano potessero essere il labirinto di porsenna tramandato dal mito il tour virtuale vi permetterà di visitare il museo il percorso nel museo civico la città sotterranea è possibile visitare un percorso la prima sezione racconta l'ambiente naturale in cui chiusi ha potuto sviluppare la sua economia e presenta una sintesi delle attività produttive tradizionali il lago chiamato anche chiaro un tempo era ampio e molto pescoso ed è sempre stato la principale risorsa per gli abitanti del territorio tutta l'area della val di chiana era un in alcuni ambienti sotterranei del percorso sono ospitate oltre 300 testimonianze epigrafiche etrusche traurne coperichi e tegoli scritte in the civic museum la città sotterranea it's possible to visit a path in the underground world of cusee the first section describes the natural environment in which cusee was able to develop its economy in one of the rooms on the ground floor of palazzo bonci casacini the furniture of the farmer's room was rebuilt he was the administrator of farm production on behalf of the owner attraverso un tratto dei cunicoli di origine etrusca creati per la gestione delle risorse idriche che hanno suggestionato gli studiosi che in alcuni ambienti sotterranei del percorso sono ospitate oltre 300 testimonianze epigrafiche etrusche traurne coperichi e tegoli scritte si tratta della più grande collezione epigrafica etrusca al mondo